Vediamo dunque i rapporti dell'azienda con l'altro istituto previdenziale, cioè con l'INAIL, che sappiamo essere l'istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Abbiamo anche visto gli scopi per i quali nato, ma in realtà indifferenziati rispetto a quelli dell'INPS, quindi qua cercheremo di essere più precisi. E diciamo che l'INAIL ha lo scopo di gestire le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni contro le malattie professionali. Quel che già sappiamo è che l'INAIL è finanziato, esattamente come l'INPS, dai contributi sociali, ma tali contributi per quanto riguarda l'INAIL sono tutti a carico dei datori di lavoro, a differenza dei contributi sociali INPS. In pratica cosa capita? Capita che le aziende paghino un premio INAIL per assicurare i loro dipendenti contro gli infortuni oppure le malattie professionali. E dovrebbe risultare abbastanza evidente che i premi variano sulla base del rischio effettivo che il dipendente corre nel svolgere la sua prestazione lavorativa. Se il dipendente è un muratore è chiaro che il rischio di infortunio nel quale può incorrere è più alto rispetto ad un dipendente ad esempio che svolge una funzione impiegatizia. E quindi quanto maggiore sarà il rischio, tanto maggiore sarà il premio pagato dell'azienda. Quindi l'impresa edile pagherà un premio sicuramente maggiore di un'azienda che ad esempio produce software. Detto questo dobbiamo però mettere in chiaro che quando parliamo di premio, che sia il premio INAIL o il premio per l'assicurazione autoscooter, stiamo parlando dell'importo che occorre pagare per avere la copertura assicurativa. La particolarità sta nel calcolo del premio INAIL perché è un po' particolare e per poterlo effettuare l'azienda ha necessità di alcuni dati, tanto le retribuzioni lorde annue di un esercizio ipotetico N, poi il tasso del premio che l'azienda deve pagare. Questo tasso viene comunicato dall'INAIL stesso all'azienda anche attraverso PEC, post elettronica certificata. La particolarità di questo tasso è che è un tasso per millare, non percentuale ma per millare, quindi espresso per mille. E quindi il premio INAIL si calcola come prodotto tra le retribuzioni lorde annue e questo tasso per millare. Fin qua direi che è tutto abbastanza semplice, se non fosse che l'azienda dia bisogno di un altro dato, il premio provvisorio che ha versato per l'esercizio ipotetico N. Quindi per sistemare questi concetti facciamo un esempio. Allora, supponiamo che l'azienda in questione si trovi nel suo primo esercizio. Al 16 febbraio di questo suo primo esercizio dovrà già versare il premio INAIL, ma è un premio assicurativo che è calcolato sulle retribuzioni presunte. Siamo al 16-2, come fa a febbraio conoscere le retribuzioni che erogherà fino al 31-12? Quindi sono retribuzioni presunte che peraltro, come vedete, devono essere dichiarate nella comunicazione unica di avvio. Quindi questo premio in realtà è un premio provvisorio. Al 31-12 di quello stesso esercizio l'azienda dovrà calcolare il premio dovuto e il premio effettivamente dovuto lo calcola sulla base della retribuzione effettivamente erogate. Siamo al 31-12, quindi l'azienda conosce perfettamente l'ammontare delle retribuzioni che è erogato in questo esercizio. Ma a questo punto dovrà confrontare il premio effettivamente dovuto calcolato sulle retribuzioni effettive con il premio provvisorio che invece ha versato precedentemente, il 16-2. Quindi in sostanza l'azienda deve conguagliare. E il conguaglio è quella procedura con cui si confronta proprio un calcolo che è stato fatto sulla base di dati provvisori, come il premio provvisorio, e con il calcolo con dati che invece sono definitivi, quindi il premio effettivamente dovuto. Poi l'azienda continua la sua attività e si ritrova nel secondo esercizio. E in questo caso al 16-2 dovrà versare l'eventuale conguaglio che ha calcolato al 31-12. Quindi questo conguaglio ci sarà ovviamente se il premio dovuto è maggiore rispetto al premio provvisorio che ha versato. E non soltanto, l'azienda dovrà versare un anticipo del premio che riguarda l'esercizio in corso. Si dice che deve autoliquidare il premio dell'esercizio in corso. Autoliquidare vuol dire autodeterminare. E come lo calcola? Lo calcola sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate nell'esercizio precedente, che è il dato che conosce. E' chiaro che questo premio è il premio provvisorio del secondo esercizio. Al 31-12 cosa dovrà fare? Dovrà conguagliare, o meglio, prima di tutto calcolare il premio effettivamente dovuto in questo secondo esercizio, sulla base delle retribuzioni effettive di questo secondo esercizio. E' confrontare il premio dovuto con il premio provvisorio che ha versato il 16-2. In sostanza dovrà anche in questo caso conguagliare e via dicendo. E procede così il calcolo di esercizio in esercizio. Quindi andiamo a sistemare un po' più schematicamente quanto è stato detto. Il 16-2 di un ipotetico esercizio N c'è il versamento di un premio provvisorio, che è quello dell'esercizio N. Poi il 31-12 dell'esercizio N c'è il calcolo e la contabilizzazione. E poi nel video successivo vi farò vedere cosa si intende per contabilizzazione in partita doppia. Ma del conguaglio dell'esercizio N. Quindi farà il calcolo della differenza tra premio dovuto effettivo nell'esercizio N e il premio provvisorio dell'esercizio che ha versato al 16-2. Quindi verificherà il conguaglio da versare e soprattutto lo contabilizzerà come vedremo. Poi al 16 febbraio dell'esercizio successivo verserà il premio provvisorio dell'esercizio stesso in corso e il conguaglio che ha calcolato al 31-12 e che a questo punto dovrà versare. Al 31-12 dell'esercizio N farà il calcolo e la contabilizzazione del conguaglio dell'esercizio N più 1 e via dicendo. Dicevamo quindi premio dovuto nell'esercizio N più 1 meno premio provvisorio dell'esercizio N più 1 conguaglio da versare che e verserà nell'esercizio successivo e via dicendo. Il versamento dei premi si fa ovviamente con modello F24 in una sola soluzione oppure in quattro rate e in questo caso con interessi. Rimando al video immediatamente successivo per un esempio di calcolo e contabilizzazione.